E inizia così un'altra partita di Call of Duty Blackout No Black Ops, Blackout E io mi butto, tanto Diciamo che mi son buttato qui Diciamo che Potrei andare sul sito in costruzione Che ne pensate? Anche se l'isola Nuketown Non ci sono mai stato Ci arriveremo Che dite? Ce la facciamo arrivare a Nuketown? Oh, andiamo a dargli uno sguardo Allora Lo scorso gameplay Che credo potrete osservare Perché comunque Arriva subito dopo di questo No, ci arriviamo a Nuketown Però diciamo che questa zona Non è male secondo me Poi ci andiamo a Nuketown Prendo una macchina, un code Vediamo qui sopra che c'è Questo che è? C'è di 7762 Buono Eeeh Che cazzo stavo dicendo? Non lo so Sono perso Eeeh Questo non so Però vabbè Cambio per la pistola Questo Questo Sono tutti e due livello 2 Prendo un Tomahawk Prendo questo Una canna allungata E qui Ah, questo spara forte Minchia In questo lo usiamo Ma onda Quanto cazzo è preciso questo? Fucile da cazzo Con azione a leva Non lo so Ragazzuoli Secondo me Con il mirino telescopico Giusto Andiamo un po' Ah, non ce lo posso mettere Allora vai a fare in ciufolo Questo che cazzo è? Questo fa male male Andiamo Munizioni Fucile a canne mosse Scimmietta per gli zombie Eeeh Via Oh Non possiamo andarci a knock town Dobbiamo assolutamente trovare un quad Sapete? Forse stavo parlando di qualcosa Che mi sono dimenticato Caricatore Lo possiamo mettere a questo? No Questo qui No Non ci sta un cazzo qua Un datore laser Lo possiamo mettere a questo? No Oh, ma che cazzo c'ho qua Questo lo posso equipaggiare Bang tattico Questo ce l'attacco qui Eh, già Scusa ma il puntatore laser Ah, ce lo posso mettere No, non ce lo posso mettere Eh, vabbè Ecco il quad Mi serviva E via Devo ancora capire La La visuale Secondo me Qua però non c'è nessuno Quindi me la posso lutare Proprio in tutta tranquillità Che ne pensate? Bravo Nicola Io penso che sia un bel posto Per recuperare merci Anzi Sono stra sicuro Che non ci sia un cane Oh, bello Se dovesse passare qualcuno Ottimo Livello 2 Tutti livello 2 Livello 2 Ci dovrebbe essere un numeretto O ho scritto il livello Della Della corazza Ma magari non Non ancora le riconosco io Livello 1 Poi mi vede se cambia il colore Ah, si, cambia il colore Vedete Purtroppo tante cose Le devo davvero ancora imparare C'è un tetto Secondo me c'è roba qui sul tetto Ehi, beh Bravo Nicola Bravo Bravone Eh, sì Forse conviene Che me ne vada Però volevo vedere Che ci fosse qui sul tetto Un cacchio Un cacchio E basta Vabbè Eh, bravo Nicola Dove vi ricaricarmi? Mi ricarico sul veicolo? Ok Sappiate che sui veicoli Le veicoli Non ci si ricarica sui veicoli Invece su PubDbG Sì Corlego molto PubDbG A questo Perché Wow Vediamo se si arrampica sulla roccia Wow Vaffanculo Entra Vaffanculo 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 Credo che non abbia Ricarica Cazzo Ma è passato qualcuno qua davanti Oh merda l'aria L'area Non l'avevo visto ragazzi Non l'avevo proprio vista Quell'altro per quanto mi riguarda Può schiattare pure ma io non morirò In modo così becero D'altronde l'aria non sapevo nemmeno Come andasse La qualcuno ci è passato Quasi sicuramente Oh oh Ok Ok Questi mi servono due Parca puttana maledetta Oh parco giuda Ma chi cazzo è Qua c'è una lametta E' la puttana Che cazzo Dai che è Una granata stordente Ma fa malissimo le granate stordenti Qui Vabbè dai Rifacciamoci subito Un'altra partita Abbandonata la partita Porca puttana Porca puttana ragazzi Ci sono rimasto di un male Ma di un male Mi sono anche Surriscaldato Sono livello 2 però Wow Come se questo fosse Di un qualche tipo di incentivo Alla mia persona Carico Eeeh Totalare E ce ne andiamo sulla diga Che è abbastanza lontana Soprattutto è stracolma di roba No non è vero Non lo so bene Però c'è qualcuno Che ci ha pensato E quindi Io atterrerò Queste casupole Sul tetto c'è Oh no Mannaggia Cristina L'avene incongerto Atterriamo sul tetto Vediamo se c'è qualcosa C'è una cassa Cassa di munizioni Non c'è più un cazzo Questa mi servirà per scendere Ok Diciamo che a munizione Questo ho messo bene Oh Se mi dessero anche un mezzo fucile Vabbè In questo faccetto volentieri Oh bene Benissimo M'ho umidato un fucile Ah bene Molto bene Adesso si che sto apposto Oh Bello 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 Porca troia Non c'è un fucile Ma vi rendete conto Che non c'è un fucile qua Un quad Si Qua Qua Adesso si che sono Ah E merino di precisione Che posso togliere Questo lo prendo Che Se prendo Se trovo qualcosa Questo Il scarciufolo Ci attacco questo No Attacco a briga Vabbè Ok Dove dobbiamo andare Vabbè E io che pensavo Che Diga Fosse un posto sicuro E invece Abbiamo una pistola Ragazzi Io E la pistola Faremo Un sacco Di cose belle Insieme Tipo questa Via Via Ma come mi sto sparando Non mi avrete mai No Ma Chissà se riesco A falciarlo No Che lisciata Madonna Che lisciata Bravo Nicola Bravo Adesso si che hanno Il tempo Di spararmi Tutti Dai Eccoti T'ho visto Stai dietro Alla pietra Minchia Si stanno Sfreggiando Malissimo Chissà che il terzo Non goda Oh no L'ho preso Posso riprenderle Il code Ce ne stava uno L'ho preso Sulla roccia Credo Che fosse Un'azione Bellissima No Ma fa malissimo Sta pistola Ah merda Eh vabbè Ma mo ci avete Cagato il cazzo Però Eh fatte Che devo fa' Buono Via 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 Questo qua Chi cazzo L'ha segato Merda Che cazzo Vesso via Auto Da ricognizione A che serve Mina Mesh Ok Mo ce ne abbiamo Andata qua Minchia qualcuno Mi sta sparando Ma Ce la faremo Merda Ho aumentato Il caricatore Ho bisogno Di un Mezzo Di locomozione Parca Troia Ragazzi Prova Entra qua Dentro Oh è bellissimo Sotto Non c'è il tempo Nemmeno di girarmi Non ho nulla Per muovermi Chissà dove Cazzo Mi porterà Forse è meglio Uscire qua Magari c'è più spazio Di manora Un mezzo Fuod Una cosetta Niente Però Dai ci stiamo Avvicinando Un elicottero Quello Cioè Si sta Andando a Mena Malissimo Qua Ok Però Non sarebbe male Spostarsi Con Quell'elicottero Ok 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 ragazzi È la prima volta Che prendo con voi L'elicottero Diciamo che Con l'elicottero Ci spostiamo Molto più velocemente Più o meno In questa zona Ok Poi c'è qualcuno Beh ci siamo mossi Abbastanza bene Ok Mirino 3x Questo Mirino 3x Però su questo Già un mirino 3x A me mi dà Tanta soddisfazione No Vediamo un po' Se ci posso mettere Qualcosa Che figa La macchinina La macchinina Da ricognizione È tanta roba E sgrizza Fortissimo C'è 30 secondi Per vedere Qua la zona Com'è Ah Non prende più Il segnale È fresco Vediamo se va Nell'acqua Ok Muore Nell'acqua Beh Ovviamente Faccio Mamma mia Si è già buttati Da qua Calibro 50 Te lo buco Quel pallone Aia Qualcuno Mi sta sviolinando Contro No Dai Vabbè Abbiamo provato Tante cose Questo ve lo lascio Così la macchinuccia Avete capito Come funziona Sì È carino Ci vediamo al prossimo gameplay Un bacio Un abbraccio E una slingvazzata